Lavora il pallone con la suola, cerca di metterlo in mezzo, un rimpallo favorisce la girata di Giovinazzo, il pareggio del Ceriale. Quando siamo giunti al quindicesimo minuto, un rimpallo favorisce l'inserimento di Giovinazzo che trova dunque il pari, uno a uno. Botta e risposta dunque fra Carlin e Ceriale, un gol che potrebbe, che dovrebbe assolutamente...